La Toscana torna arancione ed è la Polizia Municipale di Arezzo a spiegarci quello che cambierà soprattutto sotto il profilo degli spostamenti. Per Arezzo c'è un mercato del giotto straordinario deciso per il giorno dell'Immacolata l'8 di dicembre. Sì, cambiamenti soprattutto sugli spostamenti. Innanzitutto non è più necessario l'autocertificazione per circolare all'interno del proprio comune, quindi ci si potrà spostare rispettando comunque gli assembramenti, quindi l'obbligo, come ha già rinnovato il Sindaco, l'obbligo dell'uso delle mascherine in tutte le aree pubbliche e esterne, rispettando gli esercenti l'obbligo di avere al proprio interno un numero tale che non sia in base alla larghezza dei locali e quindi questo è la maggior modifica rispetto alla zona rossa. Poi gli esercizi ristorazioni hanno la possibilità di fare l'asporto fino alle ore 22 e la consegna a domicilio senza limitazioni. Ecco, però la domanda che le farebbe oggi un cittadino è questa. Risiedo in Valdichiana, devo andare a comprare un bene che oggi, Toscana Arancione, è di nuovo vendibile in un comune diverso dal mio e che non trovo nel mio comune. Si può fare? Se il bene non è trovabile all'interno del proprio comune o è più conveniente, si può fare. L'importante è che non ci siano spostamenti all'infuoro delle tre motivazioni, quindi salute, necessità di lavoro o necessità particolari da una regione all'altra. Il mercato che si svolge l'8 dicembre in forma straordinaria tra il semaforo di Via Signorelli, quindi nell'area che di solito si svolge il mercato del sabato, deve essere fatto in maniera tale che non ci sia assembramenti su banchi, ci sia un numero di persone idoneo, sempre per un massimo, quasi tutti i banchi hanno una larghezza di circa 7 metri, 7 metri e mezzo, quindi non più di tre persone, che vengono usati i guanti, i sanificatori e soprattutto sempre comunque una distanza di un metro con l'uso delle mascherine.